Buonasera, nell'ufficio di Mario, con Mario Seminerio. Buonasera, buongiorno, buon tutto. Ecco, noi con Mario abbiamo un paio di argomenti, forse tre, di cui volevamo parlare, uno di quali è la continuazione della serie Netflix Banca Popolare di Bari, perché avevamo fatto un video all'Uopo un po' di qualche settimana fa e oggi, cioè negli ultimi due giorni, ci sono usciti un paio di articoli di giornale e sono stati soprattutto arrestati, diciamo tre persone, agli arresti domiciliari, tre persone, i due padre e figlio Iacobini e anche il responsabile di bilancio della banca, perché il procuratore, il GIP, teme che possano reiterare il reato, ci sono varie specie di reati, autoriciclaggio, inquinamento delle prove, eccetera, eccetera. Allora, la cosa che viene fuori dai giornali, no, cerco di fare un recap Mario della cosa, la banca popolare di Bari, diciamo così, viene alle cronache perché? Perché dopo avere, diciamo, comprato una banca già allora in difficoltà nel 2014, la Tercas, va a sua volta in difficoltà in quest'anno, diciamo dopo che, devo dire, con Mario possiamo dirlo, no Mario, era un bel po' di anni che si rumoreggiava di difficoltà della banca popolare di Bari, no? Quante volte ne avevamo già sentito parlare, parlato noi, eccetera, eccetera, tu, anche nel tuo... Diciamo che l'incidenza degli NPI era in aumento e l'accantonamento, le rettifiche su crediti, restavano comunque piuttosto contenute, ecco, diciamola in questi termini, poi c'era il problema della invendibilità delle azioni che è ciò che ha reso la Bari famosa e l'ha fatta salire agli onori delle cronache, cioè avere 70.000 azionisti incastrati, incapaci di liberarsi e di monetizzare le azioni. Ecco, diciamo che tanto per dare un'idea di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una banca che ha circa 8 miliardi di attivi, che ha perso già oggi più di un miliardo e ancora tra capitali persi nel passato e ancora non abbiamo il conto finale, che il conto finale arriverà probabilmente con la review finale che si dovrà fare prima che il fondo interbancario per la tutela dei depositi e il medio credito centrale, diciamo così, perché quello è il soggetto che dovrebbe, è il deputato a entrare nella Bari, diciamo conformino a questa nuova Merchant Bank, Investment Bank, Super Bank del Sud che farà, diciamo, sorgere il sol dell'avvenire da Porta Genova in giù. La Fiera del Levante, diciamo. Perfetto, esatto. Allora, la cosa che esce in questi giorni e che secondo me è importante è che Gianluca Paolucci della stampa scrive che il GIP riporta nella sua ordinanza che Salvatore Rossi di Banca d'Italia in data novembre 2017 dice che l'intervento della Bari era stato reso necessario dal fatto che Tercas aveva ricevuto un finanziamento da Banca d'Italia e non sarebbe più stato in grado di rimborsarlo. Quindi se la Bari non avesse comprato Tercas e si fosse sostituita nel finanziamento che Tercas aveva con Banca d'Italia, la Tercas sarebbe saltata in aria. Quindi questa è l'ipotesi, diciamo, Salvatore Rossi è l'ex direttore generale della Banca d'Italia, per precisare. Questa sarebbe l'ipotesi quindi di conflitto di interesse della Banca d'Italia nella vicenda? Esatto, diciamo così, perché la Banca d'Italia, diciamo, cerco di riassumere con le date cosa succede, ok? Allora, così siamo precisi perché qua poi se no volano. Allora, Tercas riceve a luglio del 2013 un finanziamento ELA, cioè Emergency Liquidity Assistance da Banca d'Italia perché proprio in quei mesi sta scadendo dei certificati di deposito per 130 milioni che la Tercas non era in grado di ripagare. Banca d'Italia eroga, a che ne so io, circa 550 milioni a Tercas che a fronte del finanziamento di Banca d'Italia stanzia dei bonds che sono dei bonds con garanzia dello Stato che Tercas stampa overnight praticamente e con il costo di 100 basis points stampa una garanzia del tesoro pagando al tesoro 100 basis points bond che sono stati proibiti nel 2016 a meno che non si abbia un'autorizzazione all'Emergency Liquidity Assistance dall'ICB perché si è già presentato un piano di ristrutturazione. Quindi stampa dei bond che non si possono più fare, li vende alla banca Seminerio Genco che glieli paga e a sua volta può andare in ICB a rifinanziarli perché hanno la garanzia del tesoro. Quindi Banca d'Italia si garantisce così con Tercas, con questi bonds stampati overnight. Però all'epoca era legittimo? All'epoca era legittimo, sono stati proibiti. Precisiamo a sto punto. Si li ha fatti anche Montepaschi e altre banche. Perfetto, perfetto. Allora, il 5 novembre, prima dell'acquisizione di Tercas, la Banca Popolare di Bari subentra nella garanzia di Tercas in Banca d'Italia per 480 milioni che era l'ammontare del prestito esistente a novembre. Ok, subentra, evidentemente subentra perché ci sono già trattative di Banca Popolare di Bari con la Banca d'Italia per comprare la Tercas. Questo a novembre 2013. A luglio 2014 Banca d'Italia, dopo svariate ispezioni, solleva la Banca Popolare di Bari da un ban alle acquisizioni. Cioè la Banca d'Italia aveva dal 2011 detto alla Bari tu non puoi comprare niente perché non hai condizioni di capitale. Non puoi più fare crescita esterna. Crescita esterna. Proprio a luglio 2014 Banca d'Italia autorizza Bari a comprare Banca Tercas che deve rimborsare non solo l'operazione di finanziamento che Tercas ha acceso per Banca d'Italia ma anche un contributo di 330 milioni che riceve Banca Popolare di Bari dal fondo interbancario per comprare la Tercas perché insieme alla Tercas Banca d'Italia decide che Banca Popolare di Bari debba ricevere 330 milioni dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Nel 2014 Banca Popolare di Bari cosa fa per rimborsare questo 330 milioni? Emette 260 milioni di subordinati. Aspetta, per rimborsare perché? Perché nel frattempo la Vestager ha obbligato a rimborsare il fondo interbancario tutela dei depositi dicendo che il fondo interbancario tutela, lo schema obbligatorio del fondo interbancario tutela dei depositi è aiuto di Stato, questo elemento di grande controversia. Bravo Mario, hai ragione. È la famosa decisione contro i quali i nostri orgoglioni banchieri si scalano. Hanno appellato e hanno vinto, adesso si attende il giudizio della Corte Europea di Giustizia. Non che se non fosse aiuto di Stato non glielo doveva rimborsare, ma glielo deve rimborsare in quel momento. Cioè perché? Ok, ok. Perché adesso non è che i contributi al FIT non vanno a rimborsare, vanno a rimborsare. No, esatto, anche perché non è che il fondo interbancario è la cornucopia che stampa denaro. Cioè anche le altre banche che hanno ricevuto aiuto, Carigia, gli altri che dal fondo interbancario devono rimborsare. Per cui, va bene. Però in quel momento lo deve rimborsare, in quel momento cambiare schema. Quindi, siccome non era già pronto il braccio, il secondo braccio del fondo interbancario di tutela dei depositi, quello dei contributi volontari alle ristrutturazioni o il fondo di restructuring italiano, cosa succede? Che la Bari, non essendo pronto quell'altro, diciamo il braccio legale per dare gli aiuti di... Lo schema volontario. Lo schema volontario, ecco, esatto. Cosa fa? Emette lei 260 milioni di subordinati ai privati clienti, loro. Esatto. Dopodiché compra Tercas che nel 2014 perde 400 milioni. Nel 2015 Banca Popolare di Bari aumenta il capitale per 330 milioni, appunto quell'operazione che in questi giorni state vedendo sui giornali con i virgolettati, avendo venduto le azioni ai clienti a 8, 9 euro, non so neanche... 9,53. E li abbiamo fregati. Ecco, stiamo parlando di questa operazione di aumento di capitale del 2015 da 330 milioni. Che viene fatta? Perché? Perché nel primo anno di consolidamento della Tercas nella Banca Popolare di Bari, Tercas perde altri 300 milioni. Ecco, ma lì la due diligence non l'avevano fatta prima che gli sono scoppiate in faccia tutte queste sofferenze? Domanda da uomo della strada, diciamo. Allora, diciamo una cosa, no? Allora, Banca Italia presta i soldi a Tercas per non farla saltare in aria, dopodiché subentra la Bari, diciamo, chiamata o meno da Banca Italia, non lo so, che prima emette dei subordinati per, diciamo così, 260 milioni per sostituire il fondo interbancario di tutela dei depositi perché quella linea è da 330 milioni dichiarata illegale. e nel 2015 aumenta anche il capitale per 330 milioni. Allora, Banca d'Italia, la sua, la sua, in questi giorni i giornali dicono che anche i dipendenti della Bari dicono che Banca Italia è stata condiscendente e che non ha usato i poteri di removing dei vertici prima di Tercas e poi della Bari, no? Diciamo una cosa, Mario, per essere equilibrati, va? Escludiamo la malafede. Perché quella, se c'è un giudice, lo farà lui. Ma come minimo ti viene un briciolo di dubbio su che cosa guardi la vigilanza. Perché prima in Tercas non vede una perdita, gli fa un ELA su un bond che non ha consistenza corrispondente dalla parte dell'attivo. Perché devono stampare overnight un bond perché non hanno altre attività stanziabili. Cioè Tercas non ha attivi stanziabili in Banca d'Italia. Quindi se ne deve creare, deve crearsi un bond. E prima non vede Tercas. Poi rimuove, diciamo, una... Rimuove il divieto di autorizzazione alla Bari di comprare una banca in difficoltà. dopo tre anni lo rimuove proprio in quel momento in cui risulta anche creditore della Banca d'Italia, risulta creditore della banca acquisita. Esatto. Tra l'altro, guarda, una cosa. La Banca d'Italia ha detto più e più volte, l'ultima credo con l'audizione parlamentare di Alessandra Perrazzelli, membro del direttorio, che la Banca d'Italia non ha imposto l'acquisto di Tercas alla Bari. E questa è la loro posizione ufficiale. Per quanto riguarda il potere di rimozione degli amministratori di banche, diciamo, in determinate circostanze, credo che, ricordamelo anche tu se sbaglio, correggimi, la Banca d'Italia dice che in realtà non c'è ancora la piena effettività di questo potere di removal. Quindi, in un modo o nell'altro, la Banca d'Italia continua a essere disarmata, se vogliamo dirla tutta. Ma c'è un altro punto che è oggettivamente preoccupante, cioè il fatto che, ad un certo punto di questo iter di cosiddetto risanamento o di cambio di rotta della Bari, la Bari chiama come Credit Risk Officer la persona che uscirà un paio di mesi dopo, con contrasti molto forti nei confronti della Bari, cioè Luca Sabetta. Luca Sabetta che poi diventerà, di fatto, il whistleblower di tutta questa vicenda. Allora, perché segnalo questa vicenda? Oltre a dare onore al merito di Luca Sabetta, diciamo, come persona di grande integrità, c'è un fatto che quando Sabetta lascia l'incarico, con le buone o con le cattive comunque, chi torna al posto suo come Credit Risk Officer, come CRO, la stessa persona che c'era prima di lui e che viene, come dire, nella visione della vigilanza, cioè della Banca d'Italia, viene assimilata, come dire, al gruppo di controllo, cioè diciamo al volere della famiglia Iacubini. Allora, sui giornali c'è una parte di una deposizione di Salvatore Rossi al PM dove pare che il PM faccia notare a Salvatore Rossi perché dopo che Sabetta è durato un paio di mesi è tornato il precedente Credit Risk Officer, che questo ai nostri occhi rappresenta la continuità della gestione della proprietà sulla banca, voi che cosa avete fatto? E da quello che ho letto, dagli stralci di verbale di questa deposizione, non è chiara quale sia la risposta di Salvatore Rossi. Quindi, perché vi stiamo, come dire, ammorbando cari telespettatori, ascoltatori, eccetera, che sarete probabilmente con la mandibola pendula e con gli occhi sbarrati? Perché, a un certo punto, esattamente come in un film di Kurosawa, cioè Rashomon, tutti i partecipanti hanno una loro visione di quello che è accaduto e nessuna di queste visioni coincide con quella di chiunque altro. La Banca d'Italia dice che la Bari non è stata, come dire, è stata in grado di sottrarsi alla vigilanza perché comunque non avevano cogenza del potere di rimozione degli amministratori. La Banca d'Italia dice che l'acquisto di Tercas non è stato imposto. I verbali e quanto sta emergendo dalle carte giudiziarie paiono indicare una cosa diversa. Quindi la vicenda resta open. Vedremo come andrà a finire. Però è chiaro che politicamente, mentre noi la stiamo affrontando analiticamente, è chiaro che la politica la affronta tagliando la grossa. Nel senso dicendo, ecco questa la Banca d'Italia fa fallire le banche, rimuoviamoli tutti, mettiamo, non lo so io, paragone al posto di visco. No, per dire queste cose su paragone no, perché mi pare lì veramente azzoppato. Ma il concetto è quello. Però bisogna fare molta attenzione a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Bisogna fare attenzione al fatto che Banca d'Italia deve spiegarci una volta per tutte cosa poteva e cosa non poteva fare. Allora, io dico una cosa se posso. Prima di tutto, proprio dalla nota di Banca d'Italia sulla vicenda, perché Banca d'Italia ha pubblicato una nota il 17 dicembre, c'è un passaggio dove Banca d'Italia dice nel 2014, a luglio 2014, la Banca d'Italia autorizza la Banca Popolare di Bari ad acquisire il controllo di Banca Tercas. Allora, facciamo finta che non puoi rimuovere l'amministratore, che non è vero. Articolo 53, testo unico bancario ON, è il seguente. Ma non è vero, ma fa niente. Facciamo finta che non lo puoi rimuovere, però l'hai autorizzata Banca Popolare di Bari, tu l'hai autorizzata rimuovendo il tuo divieto di acquisizione. Allora, quello che ti dico è, l'hai autorizzata dopo immagino che tu abbia fatto una due diligence. Esatto. Verificando che la Banca Popolare di Bari avesse i requisiti per comprare una banca scassata perché gli hai prestato tu 500 milioni a Tercas. Stava per diventare radioattiva con l'immersione degli MPE, tra l'altro. Tu hai verificato l'adeguatezza dei cosiddetti requisiti patrimoniali della Bari che si compra la Tercas, giusto? Allora, prima non hai visto la Tercas, poi la Bari fallisce, non hai visto anche la Bari. Mi domando che cosa guardi dentro i suoi poteri la vigilanza. Ora, quando tu dici non bisogna buttare via l'acqua sporca col bambino. Il bambino con l'acqua sporca. Ecco, io ti dico che hai ragione, però ti dico anche che le istituzioni le difendi difendendo nel prestigio e l'onore, rimuovendo le persone che non sono capaci di lavorare. Perché se no difendi le persone invece che le istituzioni. Allora, l'istituzione è la prima che si deve pulire se vuole che la gente abbia rispetto. Ma il problema è che qua sembrano essere tutti coinvolti. Quindi non è che tu dici c'è un singolo soggetto di Banca Italia che ha sbagliato. E questo è il problema. Io sono d'accordo con te, ma se andiamo in profondità buttiamo giù l'istituzione. Io non lo voglio dire quello perché conosco tanta gente lì che è capace di lavorare molto bene. Non lo metto in dubbio. Però quello che dico è che queste cose vanno chiarite in fondo. Cioè, deve essere come la moglie di Cesare, un po', no? Cioè, se si vuole che venga rispettata e che i politici non possano permettersi di attaccarla come hanno fatto e come faranno, è proprio l'istituzione stessa che si deve difendere ripulendosi dalle persone che non sono capaci di fare quel lavoro, ok? Questo volevo dire. Perché questo refrain per cui ah no, non si può toccare Banca d'Italia no, Banca d'Italia non lo puoi toccare ma gli incapaci che la popolano sì. Perché qui come minimo c'è dell'incapacità. Non hanno visto una serie di cose di cui si parlava sui giornali da anni, ok? Cioè, non è che fossero cose venute da Marte. Per cui, se la sequenza degli eventi è quella inoltre c'è tutto un tema regolatorio di cui si discute da tanto tempo di quando colui che è garante della stabilità e fa un prestito a una banca debba essere la stessa istituzione che giudica se fare quel prestito perché capisci che sei garante della stabilità da una parte quindi non vuoi che salti per aria nessuno ma dall'altra parte sei in conflitto di interesse quando succedono queste cose qua. Per cui c'è un discorso tra accademici, banche centrali, eccetera, eccetera sul fatto che certi ruoli a volte non sono compatibili dentro una stessa istituzione. Questo non riguarda solo la Banca d'Italia riguarda anche l'ICB quando fa la ELA alla Grecia e poi giudica se un programma della Grecia sia sostenibile o no. Quando è nella Troica l'ICB che intanto gli ha già prestato i soldi a uno Stato come si fa a dire che non è in conflitto di interesse nel fare il void di un piano economico? Cioè è un discorso più ampio che non riguarda queste misere vicende purtroppo ma che è un problema di assetto istituzionale che si discute, diciamo così perché non c'è una soluzione facile. Certo. Io volevo solo fare questo punto sulla Bari perché ne avevamo parlato Mario e secondo me le cose che sono uscite in questi giorni da Gianluca e penso anche sul fatto quotidiano oggi forse sono cose meritevoli di una discussione perché ci sono troppi fatti concatenati che ti fanno pensare proprio male, no? Cioè qui in pratica Banca Popolare di Varia ha trasferito un rischio che era di Banca Italia sui suoi azionisti e possessori di bonsubordinati. Questa è l'ipotesi per come ci è stata sin qui descritta anche con le carte, diciamo, della magistratura. In effetti tu hai sintetizzato esattamente quello che potrebbe essere accaduto. Ecco. Va bene. Detto questo, la seconda cosa che ti volevo chiedere perché so che sei attento osservatore era un commento tuo personale sull'anno bellissimo che si è chiuso col quarto quarto del PIL italiano che ha fatto meno 0,3 sul trimestre precedente e zero sull'anno precedente chiudendo il 2019 a uno 0,2 provvisorio perché dobbiamo aspettare la release finale a marzo. Chiaro. E dove non ci hanno dato il breakdown come fanno in altri paesi civili, no? Sì, sì, sì. No, questa cosa che mi sta molto... Allora, per quanto riguarda l'anno bellissimo noi restiamo fanalino di coda. I motivi li abbiamo detti più e più volte e questo paese ha un modello di sviluppo che non funziona. Questo paese rischia di essere unfit per l'habitat in cui si trova. E guardate, so che alcuni di voi adesso diranno ma basta uscire dall'euro! E no, in realtà non è così. Questo lo lasciamo dire ad altri, diciamo, no? Ad altri venditori di olio di serpente. Noi cerchiamo solamente di fare delle analisi. Certamente questo meno 0,3 mi lascia molto perplesso perché è una magnitudine assolutamente inattesa. Non c'era nessuno tra i forecaster che la prevedeva. Allora, giustamente, come dicevi tu poco fa, Istat dà una prima stima assolutamente aggregata e dopo circa un mese, infatti lo sapremo, il 4 marzo dà la disaggregazione. Ora, è vero che succede questo perché ci sono alcune fonti che non sono ancora definitive quando esce la prima stima. Però, cari amici dell'Istat, se ci fosse modo di migliorare la metodologia, diciamo, il timing e anche di rifare il calendario sarebbe meglio perché i francesi sono usciti in contemporanea a noi la stessa giornata e se andate sul sito dell'ENSE, cioè praticamente dell'Istituto Nazionale Francese di Statistica, vedete che c'è già la disaggregazione di quel PIL dove, molto importante, molto interessante, il loro meno 0,1 si forma come più 0,3 di domanda finale interna, il che, voglio dire, è decente, più 0,3 di domanda finale interna, e meno 0,4 di scorte, cioè loro hanno avuto un decumulo di scorte che sono, e qui arriva l'ulteriore disaggregazione analitica dell'Istituto Statistico Francese, dovute soprattutto all'equipment e ai mezzi di trasporto. Allora, se noi dovessimo tenere valida questa ipotesi, potremmo anche ipotizzare che l'Italia ha avuto una problematica di questo tipo che diventa fattor comune europeo, cioè la gelata nel mese, che è il mese di anomalia piena dove si sistemano le partite, soprattutto sull'automotive. Allora, ce lo prendiamo come ipotesi di lavoro e aspettiamo il... Se posso, no? Allora, Banca d'Italia... Buonanotte. L'Istat dice che l'Italia ha avuto quel meno 0,3 e il contributo netto dell'estero è stato positivo, quindi la Nenia ha rallentato la Germania a questo trimestre non vale, nel senso che il contributo importe... Spera, 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 spera. Tu sai che il contributo dell'export netto è una derivata seconda, cioè è la variazione dell'export meno la variazione dell'import, per cui se il nostro export fosse diminuito ma meno della diminuzione dell'import, paradossalmente, ma non troppo, noi avremmo un contributo positivo dell'export netto. E dice che probabilmente... E si capisce che anche noi abbiamo sicuramente avuto un decumulo di scorte che ha influito negativamente sul PIL. Esatto. Come ce l'ha avuto gli Stati Uniti, peraltro. È stata, diciamo, una cosa, secondo me, abbastanza mondiale, che secondo me deriva dal fatto che si rumoreggiava già da un po' che Trump avrebbe tagliato i dazi sui cinesi. Quindi, cosa ha fatto la gente? Ha aspettato a comprare che i dazi venissero levati, no? Secondo me. Quello potrebbe essere una spiegazione, no? Cioè, tu decumuli tutto quello che hai, non compri niente, perché sai che a un certo punto, nel quarto quadrimestre, una parte dei dazi vanno via. Ricordo agli astanti che il dazio medio sui beni cinesi importati in America è comunque al 19%. Sono stati tolti solo un pezzettino dei dazi incrementali sui secondi capitativi. Però diciamo che se lo sai, ti fermi, no? Compri dopo. E secondo me questa roba un po', c'è stata un po' ovunque. Ma è una mia interpretazione, la prima cosa che mi è venuta in mente, non lo so se è quello, ma potrebbe... Ma poi però magari in Europa è anche l'automotive che ha avuto delle stesse. queste mazioni abbastanza traumatiche. C'è stato un destock insicuro dell'automotive che già rallentava prima e quindi alla fine cosa fai? Cerchi di non produrre, di vendere quello che hai nei piazzali per non presentarti a fine anno tutte le case con troppa roba, troppo inventory, no? Chiaro. Quello lo vedremo dai bilanci delle auto, delle società che fanno auto, vedremo se c'è stata una riduzione del working capital, cioè delle scorte che si riflettono a livello macro. però volevo dirti che a questo punto le stime del governo per un più 0,5... Se non mi ricordo... Più 0,6, più 0,6, il governo, più 0,5 è l'IMF. L'IMF è anche IBDI, mi pare, è Banca d'Italia anche. Più 0,5 sul 2020, così come la vedo io, in più con, diciamo così, il rallentamento che ci sarà per questa faccenda del coronavirus. Adesso non sappiamo stimare l'impatto né quanto dura, ma di sicuro, Standard & Poor's dice che la Cina perde un punto e due di PIL, che è un conto abbastanza facile da fare, perché se la Cina doveva crescere intorno al 6, vuol dire fare un punto e mezzo a quarter, circa, che sto andando a Spagna. E se perdi un quarter, perdi un 1,5. Cioè... Infatti già si dice, tra pianisteo e verosimiglianza, che l'Italia potrebbe essere tra i paesi più colpiti dal coronavirus per l'imponenza dei flussi turistici cinesi. Già c'è Federalberghi che piange a dirotto, come avrai notato, per cui vediamo quanto di vero. Guarda, io devo dire che sono stato molto attento, perché stiamo cercando anche come società di capire cosa si vede. Allora, posso dire per chi ci guarda due cose. Il primo dato di qualsiasi paese con dentro Wuhan, cioè il coronavirus, è la produzione industriale che è uscita in Vietnam su gennaio, che ha fatto meno 5,5. Import e export vietnamiti di gennaio che hanno fatto down, hanno fatto giù a doppia cifra, meno 12, meno 11, meno 14. Questo non lo sapevo. Io ho visto macro che ha dentro l'effetto che presumibilmente ha un po' di effetto del coronavirus. Nelle conference call che abbiamo ascoltato sul quarto Q di tutte le società che hanno riportato in America e in Europa, quello che abbiamo sentito è Apple molto reticente, ha solo allargato il range, molto reticente, quasi una roba ridicola. molto reticente perché vi dico io che, allora, lunedì scorso il mercato inizia, lunedì notte esce una notizia che Apple ha aumentato gli ordini ai fornitori del 10%. Martedì il mercato azionario parte, rimbalza su questa notizia in tutta Europa e la mia interpretazione di quello è che Apple ha capito che forse si interrompevano le catene di produzione e anche di spedizione e quindi finché poteva ha ordinato di più perché ci sono dei componenti degli iPhone che arrivano dalla Cina e senza i quali tu non produci più neanche mezzo iPhone. Quindi o escono intanto che escono degli aerei dalla Cina o se si bloccano tutte le linee aeree i trasporti eccetera è finita. Cioè non produci più gli iPhone. Tenete presente che gli iPhone fanno 59 miliardi di fratturato all'ultimo quarter se non sbaglio. Quindi Apple ha detto quella roba lì ha allargato il range degli utili 2020 perché dice non sappiamo Tim Cook ha proprio detto non lo so ha allargato la banda delle stime dei risultati che si aspettano. Dall'altra parte Itachi invece è stata molto più onesta e ha detto l'impatto in alcuni settori è terrificante perché il loro direttore finanziario ha detto ci sono interi settori come tipo l'air conditioning che è meglio che non vi si rompa perché la macchina del condizionamento perché la fanno tutti in Cina cioè ci sono interi settori produttivi che sono fatti in Cina gli altri che sono stati molto onesti sono i produttori di semiconduttori tipo Xilings e altri che hanno detto che per loro è una catastrofe perché ovviamente se si ferma per più di dieci giorni ci sono problemi. Quindi su questo la verità è che io ho provato a analizzare l'impatto ma non si può dire niente di sensato. Esatto è veramente troppo difficile non lo sanno neanche loro le aziende anche perché non si sa se la Cina si ferma fino al 10 febbraio poi riparte normale oppure non sappiamo niente. Se dovessimo guardare i dati ammesso che siano veri che i cinesi danno alla fine di ogni giornata si nota che vabbè la progressione del contagio comunque produce mortalità con un'incidenza decrescente. Sì no guarda lì poi faremo un panel anche all'evento del 15 e 16 febbraio su questo però la cosa che sentivo avendo parlato con un po' di virologi anche in America e così è che loro hanno un capacity constraint sulle misurazioni cioè riescono cioè quello che vediamo i numeri 12.000 9.000 10.000 sono i numeri che sono molto legati alla capacità di testare i malati cioè in questo momento negli ospedali sono un po' overworked sono raffollati e quindi non hanno una capacità di testare i malati che non sono già molto malati per cui la mortalità che si vede è anche frutto del fatto che si testano dei malati con chiarissimi sintomi polmonite eccetera eccetera quindi effettivamente la mortalità potrebbe essere molto bassa il problema è che quello va incrociata con i contagiati nel senso che anche la mortalità della spagnola era bassissima però l'hanno presa in un miliardo e mezzo di persone e poi è stato un gramma per cui nel 1919 diciamo che quello è veramente un casino io ho fatto 100 tweet dicendo a tutti anche Ray Dalio si è messo a tirare curve il problema è che il sample di dati che abbiamo è completamente biased dal fatto che a un certo punto avvano una settimana fa finito i kit poi sono arrivati i kit ma gli ospedali sono quelli che sono infatti ne hanno costruiti due al volo e stanno mandando 6.000 medici dell'esercito perché non riescono a misurare bene le cose e la prima cosa che devi fare in una roba del genere è il containment degli infettati e quindi devi sapere quanti sono dove sono quello è il problema per cui quella roba lì è veramente un casino Mario almeno per noi è difficilissimo stimarla c'è da dire che sembrerebbe che insomma la mortalità come dici tu in generale è bassa il problema è di vedere quanto va avanti vedere no soprattutto se è limitata a soggetti magari anziani con condizioni preesistenti ecco sì anche su quello sai i dati sai Mario sono un po' scarsi dalla Cina adesso lo dico ma non credo che siano in mala fede loro come dicono certi adesso che ce l'hanno morte cioè loro sono stati in mala fede all'inizio nel cercare di tacitare le cose quando il primo medico a dicembre ha detto che c'erano dei casi di SARS no perché loro l'hanno visto con Mars però adesso io penso stiano facendo uno sforzo imponente onestamente cioè non è che gli si può dire più di tanto il problema è che queste robe sono un casino perché se tu perdi un giorno non hai perso un giorno normale è esponenziale sta cosa quindi capito è logaritmica la scala per cui non lo so vedremo vedremo in forma dell'IRPEF che i loro signori vogliono creare precostituendosi delle munizioni attraverso aumenti selettivi dell'IVA per cui abbiamo salvato il paese evitando l'aumento IVA e quindi adesso possiamo serenamente aumentare l'IVA in attesa che arrivino gli infermieri a portarci via te lo volevo chiedere perché oggi c'era un'intervista di Gualtieri dove dice ah bello la prima cosa che abbiamo fatto è diciamo così disattivare gli aumenti IVA come tutti ma non ci sono altri 20 miliardi di clausole di salvaguardia 21 tra CIS e IVA sul 2021 esatto sì sì va bene non mi ricordo male io sì sì ma infatti ma tutti i piccoli artificieri tricolori ogni anno disattivano disinnescano qualcosa ecco no perché mi sembra quando leggevo questa cosa di Gualtieri che diceva no ma il merito di questo governo è aver disattivato ma c'è anche quell'anno che viene per cui sì ma se consideri se consideri che Zingaretti povera anima va in giro a dire che abbiamo evitato la bancarotta testuale hai la misura di cosa sente certa gente ecco va bene va bene comunque avremo modo di parlarne va bene caro Mario niente ci vediamo domenica Vanni benissimo grazie ciao ciao ciao